intensificando lievemente la pioggia Moretti ha saltato l'avversario lato corto dell'area potrebbe mettere in mezzo c'è il tocco e l'autogol da parte del gruppo progettivo immobiliare di Giorgio Perelli ha provato a mettere da dentro Moretti Perelli ci ha messo forse il ginocchio ha spiazzato Moroni è 1-0 Eusepi sul pallone partita in corsa di Andrea Eusepi forte e centrale si butta alla propria sinistra Moroni c'è il 2-0 del Football Elite Roma Nord per il portiere in maglia gialla partita in corsa di Eusepi va in porta filtra il pallone sul secondo palo c'è la scivolata di testa per il 3-0 del Football Elite Roma Nord si può vedere proprio all'ultimo entra adesso in aria palla dentro proprio per Cardelli sfila il pallone sulla linea di porta e il 4-0 del Football Elite Roma Nord si è inastacolato con un compagno Cardelli il taglio di Coco ha accettato Eusepi Bardella supera Chinagli ci prova con il mancino bacio al palo e 5-0 del Football Elite Roma Nord